La gara clou della 24esima giornata sarà indubbiamente Lazio-Inter una partita che si prospetta molto interessante anche dal punto di vista del gioco naturalmente perché mette di fronte due formazioni che oltre ad essere nei piani alti della classifica sono in forma giocano un buon calcio e hanno anche molte qualità simili fra loro non solo per quanto riguarda il modulo, il 3-5-2, ma anche per come viene interpretato il gioco da parte di entrambe le squadre Conte da una parte e Inzaghi dall'altra sono sicuramente due allenatori che vogliono molto dalle loro squadre vogliono molta intensità e questo si potrà tradurre in una gara molto interessante soprattutto sul piano del ritmo da una parte ci sarà la Lazio di Inzaghi che sta facendo davvero un campionato strepitoso sulla scia di Juve e Inter a un solo punto e quindi giustamente i laziali pensano anche a eventualmente inserirsi nella corsa a scudetto mentre naturalmente i nerazzurri che sono a pari punti con la Juventus vogliono approfittare di questo scontro diretto sia per rimanere in scia degli juventini ma anche per staccare un po' la Lazio quindi sentire meno il fiato sul collo dei biancocelesti la Lazio avrà quasi la squadra al completo, mancherà Lulic mentre nell'Inter probabilmente il forfè ancora una volta di Capitan Andanovic che verrà sostituito da Padelli sarà una gara interessante perché metterà di fronte due degli attacchi forse più forti dell'Euro in Europa se si pensa alla vena realizzativa di Lukaku e Lautaro Martinez da una parte e di Immobile e Caicedo oppure Correa dall'altra si tratta veramente di una gara che si prospetta come spettacolare non mi stupirei se finisse con parecchi gol secondo me vedremo una gara interessante soprattutto dal punto di vista della intensità staremo a vedere chi riuscirà vincitore tra Lazio ed Inter indubbiamente sono due squadre che in questo momento sono tra la più in forma del campionato italiano e quindi possono dire la loro nella corsa a scudetto